Fino ad oggi il governo si è interessato del tema banche soltanto a favore delle lobby e dei potenti. Il governo a 5 stelle cambierà completamente la prospettiva. Le banche e il credito dovranno essere al servizio dei cittadini e delle imprese e così sarà quando saremo noi al governo. Di questo ne parleremo al Palermo il 24 e il 25 settembre. Cittadini al governo al servizio di tutti. Come sempre c'è bisogno di una donazione da parte di tutti noi. Un piccolo contributo può aiutare il nostro progetto a crescere sempre di più.